GAMBIADINI Campo per Frattesi che sfida Ebosse da solo contro Ebosse Frattesi, limitato, ora l'Oriente che cerca il destro, Silvestri in calcio d'angolo, l'Oriente un passo e tiro in porta Ma Muriel schiena fuori per Kopmeiners, Radu parata clamorosa e poi evita anche il tiro cross di Lukman La recupera Zambo Anghissà, il tocco corto dietro di Lorenzo, l'appoggio, Faraskelia! Tronkowski respinge e poi Olm allontana di testa Immobile, Basic, guarda la porta, calcio! Montipò spinge sul palo il gran tiro di Basic Salonkier, pallone morbido, a cercare ancora Leao e di testa riesce a servire Pobega, dentro di prima, Teo Hernandez, il cross per Giroud! Audero salva tutto, grande parata di Emil Audero Radonic può andare a sfidare Skriniar, Radonic in area, Radonic! Andanovic! Ismaili nella sfida con Belotti alla meglio il gallo che prova ad andarsene verso la porta Belotti in area, Belotti calcia! Vicario! Occhio alla cross che arriva sul secondo palo colpo di testa di Gonzales, miracolo di Di Gregorio che toglie letteralmente il pallone dalla rete Grazie!